Io qui con me, Marco Passafiume, Marco benvenuto. Grazie per l'invito. Beh, in Cattolica avete un'esperienza trentennale nel mondo della banca assicurazione, da sempre avete servito le piccole realtà territoriali e ancora oggi servite banche popolari e banche di credito cooperativo. Ecco, dal tuo punto di vista è cambiato qualcosa nelle richieste delle vostre banche partner perché i bisogni dei loro clienti sono cambiati. Qual è la vostra opinione, la vostra esperienza che puoi condividere qui con noi oggi? Sì, Marcella, senz'altro la risposta è sì. Il contesto di mercato che stiamo vivendo ormai da qualche anno con diversi effetti sta cambiando il bisogno dei nostri consumatori che ha a che fare con le assicurazioni. Ti faccio qualche esempio molto concreto, per esempio l'inflazione. L'inflazione è qualcosa che è comparsa finalmente, mi viene da dire, dopo tanti tentativi delle banche centrali di generale, è comparsa quest'anno. Ma l'inflazione ha un effetto nella vita quotidiana dei nostri clienti assicurati. Tu sai che io dico sempre questa cosa del non si sa mai. I nostri clienti accumulano ricchezza, risparmiano e le lasciano sul conto corrente i loro risparmi perché non si sa mai. Allora il non si sa mai oggi costa di più perché il costo di un imprevisto, chiaramente, di qualunque tipo per via dell'inflazione aumenta. E questo è un aspetto di cui dobbiamo tener conto perché il risvolto è che ovviamente attira attenzione da parte dei nostri assicurati su coperture assicurative proprio perché quel rischio diventa più caro. Lo stesso vale anche per le imprese, mi viene da dire, perché anche le imprese devono soffrire, devono vivere un aumento dei costi in generale e anche nel loro caso il costo dell'incertezza è maggiore. E da qui più opportunità per le polizze d'assicurazione. Certo. Ecco, visto che hai appena parlato di polizze d'assicurazione, ma voi avete fatto come gruppo cattolica dei nuovi prodotti, diciamo, più aderenti a questi nuovi bisogni dei clienti? Recentemente avete fatto qualcosa che magari ci puoi raccontare? Sì, allora abbiamo lanciato prodotti sia per privati che per imprese che cercano di rispondere un po' a questi bisogni emergenti che ti citavo prima sinteticamente. Per esempio sui privati sai che stiamo lavorando molto sull'offerta salute, ma è una delle gambe della nostra offerta complessiva. Stiamo lavorando però rispondendo anche in questo ambito a dei bisogni nuovi. Ecco, stiamo cercando di rompere un po' quel paradigma dell'indennizzo, diciamo, quindi il sinistro e l'indennizzo, andando verso invece risposte a bisogni che vediamo anche dalle interviste e dalle sarvi che conduciamo sono sempre più sentiti. Ti faccio anche qui un esempio. Nell'ambito salute quello che abbiamo capito che è importante per i nostri clienti è per esempio ridurre i tempi di attesa per avere un consulto e una visita. Questo è diverso dal chiedere semplice, farsi fare la fattura e chiedere il rimborso perché sono coperto dall'assicurazione. Oppure un'altra cosa è fare prevenzione. Questi sono tutti i servizi o comunque contenuti assicurativi che vanno oltre quel paradigma che ti dicevo prima. Mentre per esempio sulle imprese abbiamo lanciato un prodotto simile come struttura modulare che risponde fra le varie coperture a questo bisogno emergente della cybersicurezza. Ormai le imprese tutte devono avere a che fare con il digitale, con l'utilizzo di dati anche più o meno sensibili e quindi la cybersicurezza è un bisogno emergente. Stiamo rispondendo con i nostri prodotti a questi bisogni sempre più nuovi. Interessante questo. L'altro di questi prodotti vostri, molto aderenti proprio all'esigenza della cliente, ne ha parlato ieri anche Stefano Milani che BCC, servizi assicurativi, è vostro partner e ha parlato del prodotto Formula Azienda che peraltro abbiamo premiato ai Future Bank Assurance Awards proprio una decina di giorni fa. Marco un'ultima domanda per te. Prima con i rappresentanti di ARCA del gruppo Beeper abbiamo parlato di un tool che ARCA ha sviluppato per i clienti delle banche in primis per Beeper per aiutarli a comprendere meglio quali sono i loro gaps. Quindi uno strumento apparentemente, da quello che ci hanno raccontato, sembra molto molto efficace per aiutare al cliente. Ok, non compri un prodotto ma compri da noi un servizio e noi abbiamo un quadro completo dei tuoi eventuali bisogni. Ecco, voi come siete, da questo punto di vista avete fatto anche voi qualche investimento, avete creato dei tools, degli strumenti per le banche? Sì, questa è una buona domanda. La consulenza assicurativa ovviamente è il centro, è l'elemento principale per poter poi sviluppare questo business rispondendo ai bisogni dei clienti. Anche la normativa ci dice di stare attenti proprio ai bisogni. Oggi insisto su questo argomento perché questi tool aiutano proprio anche a far riflettere il consumatore su bisogni che probabilmente non sente ancora di avere o che non sa possono essere gestiti con le soluzioni assicurative. Anche qui ti faccio un esempio. Noi stiamo lavorando molto per esempio sul mondo della silver economy, come si chiama. Quindi in Italia oggi ci sono circa un quarto della popolazione è over 65 e nel 2050 addirittura più di un terzo della popolazione sarà over 65. Ecco, questo tipo di target ha dei bisogni assicurativi che vanno compresi. Quindi questi strumenti anche noi con l'aiuto di domande e di diciamo questionari cerchiamo di comprendere quali sono i bisogni di questo target di popolazione. Per esempio abbiamo scoperto che la paura di perdere l'autosufficienza è un elemento chiave per questo target e quindi di nuovo con questi strumenti puoi riuscire a capire qual è la soluzione migliore per ognuno. Per esempio una polizza Luntercare oppure uno strumento di accumulo, di risparmio. Ecco, per fortuna con queste modalità riusciamo a, come ti dicevo prima, ad accompagnare i clienti a fare una vera e propria consulenza finanziaria. Dico un'ultima cosa che è importante perché poi scoprire, diciamo, un bisogno non è sufficiente. Bisogna anche spiegare i prodotti ai clienti e portarli chiaramente all'acquisto. In questo senso stiamo lavorando tantissimo con le nostre reti per fare ovviamente formazione, animazione, assistenza. Però stiamo lavorando, io ho questa concezione diciamo di mettere insieme il sapere teorico che sarebbe quello, diciamo, legato a come funziona la polizza, le condizioni, anche il prezzo, eccetera. Anche ad un sapere però pratico, cioè quindi come si fa a appassionare, ecco, diciamo così, i consumatori all'acquisto di una polizza. Perciò è un po' come diciamo ai latini, ars et invenzio, no? Cioè devi avere sia il sapere teorico, l'invenzio, la conoscenza, che l'arte, la pratica. E quindi stiamo lavorando molto su come si parla di polizza, magari anche con un approccio positivo, ok? Legato alla gestione finanziaria complessiva del proprio patrimonio, ma anche proprio alla comprensione di quello che per i nostri consumatori conta di più, no? Bene.